Sicuramente lui non è nuovo, ma è una vita che è con la SBA e grazie a lui, se la nostra società, grazie al medico, al dottor fisioterapista Simone Maraccini, se la società non ha avuto nei tempi che ci sono stato io praticamente, quindi da molto tempo, abbia terminato tranquillamente tutti i campionati senza alcuna distrazione, senza alcuna assenza degli atleti e un bel traguardo arrivato, ma c'è da raggiungere qualche altro traguardo. Devo dire che quest'anno si riparte, diciamo così, penso alla grande, già eravamo ben messi noi con Umberto Bezzotto restanti, sono stati integrati con altri due allenatori di altissimo livello, con i quali speriamo di fare un ulteriore salto di qualità. Io dal punto di vista mio non posso, come al solito, ringraziare la società, sia da parte mia che da parte di quello che è lo staff, sia medico che della preparazione fisica, perché ci danno la possibilità di lavorare a 360 gradi. Non è semplice in tutte le società avere tutti gli spazi che danno la possibilità di avere da noi, quindi noi speriamo anche quest'anno di dare il nostro contributo per farsi che gli atleti siano sempre in condizioni migliori. Poi vediamo un po' quello che verrà fuori. Simone ha in mano praticamente il fisico degli atleti, dovrà dosare le energie per tutto il campionato, quindi l'unico inconveniente che c'è stato lo scorso anno, abbiamo finito forse alla canna del gas e le ultime partite. Quindi Simone un bel in bocca al lupo, al nostro Simone è il fisioterapista dottor Simone Maraccini.